Ciao ciao a tutti, bentornati, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Buon lunedì, oggi inizia una settimana nuova, spero che stiate tutti bene, io così così. Da ieri pomeriggio che ho una sensazione di nausea molto molto forte, mal di stomaco, non riesco a mangiare questa è una fortuna, ma va bene. E penso ci sia in giro che alleggi quell'influenza che adesso è di moda, tra virgolette, e speriamo che non si acutizzi troppo, ma ecco, faccio anche fatica a guardare i video perché mi mettono proprio nausea. Quindi oggi non sapevo bene cosa fare, piuttosto che stare lì seduta ferma, ho detto c'è che provo a girare il video. Di che video stiamo parlando? Del mio grandissimo haul, o meglio, regalo di Natale della mia mamma che mi ha dato una disposizione di soldi e che io ho speso in palette e rossetti su Colourpop, scusate non mi ricordavo più. Colourpop che è un'azienda americana che ho conosciuto da un po', ma mi sono decisa appunto di acquistare questi prodotti dopo aver visto vari video di Elisabetta Herri. E' sempre lei, ma è sempre lei, lo dico con affetto perché lo sapete che io adoro Elisabetta Herri, mi piacciono tantissimo i suoi video, trovo che i suoi contenuti siano interessanti, sinceri e quindi io ne approfitto sempre. Quando lei dà dei consigli e io so che posso acquistare qualcosa, mi affido quasi sempre e solo a lei. Grazie Eli, perché sono andata per cercare una palette che lei aveva consigliato, che non ho trovato perché era sold out, ma visto che ero lì e che stavo guardando, ne ho approfittato. Ho comprato delle palette che qualcuna l'avete vista su Instagram, che non sono propriamente nelle mie corde, o meglio, mi piacciono molto questi colori ma non li ho mai utilizzati. Io sono sempre su delle palette abbastanza nude, abbastanza rosine, non con dei colori molto eclatanti, ma ce ne sono tre che sono veramente molto molto pop per i miei gusti. Sono uscita un po' dalla mia comfort zone e così mi sono buttata in vista dell'estate e della primavera, dove magari posso utilizzare dei colori un po' più vivaci, allegri, primaverili, chiamiamoli così. Poi ho fatto scorta di lip gloss, o comunque rossetti, anche quello che sto indossando ora è di color pop, perché sono dei rossetti nelle mie corde, più che rossetti sono dei lip balm, dei gloss, delle matite colorate molto molto morbide, che in tutta velocità, che è quello che voglio io nel quotidiano, quindi anche al lavoro senza bisogno dello specchietto, vado in bagno, cioè nel bagno ho lo specchio, ma anche se sono alla scrivania o sono in macchina, che ho bisogno così di ammorbidirmi le labbra senza pensare a una sbavatura o a quant'altro, questi sono perfetti e sono tutti nei colori che io amo pazzamente, quindi per i rossetti non sono, diciamo, uscita dalla mia comfort zone. Ma iniziamo, ultima nota tecnica, come vi dicevo, color pop è un'azienda americana, quindi voi pagherete sicuramente la dogana. Io vi dico che per questo grandissimo acquisto, ho acquistato tanti prodotti che erano scontati di molto, alcuni anche al 70%, quindi, diciamo, il costo totale scontato del mio ordine era sui 110€. La dogana e il dazio, le tasse che ho pagato, in totale corrispondono ad esattamente il 22% dell'importo non scontato, quindi è come se voi aveste pagato l'IVA, questo è capitato per me. Nonostante però le spese, poi siccome era un regalo di Gesù Bambino, io ho pagato tranquillamente la mia dogana e mi sono goduta queste meraviglie. Ma iniziamo subito. Volevo farvi vedere, le palette le lasciamo per ultime, che sono le cose più belle. Iniziamo dai rossetti. Allora, ecco, tutti i prodotti vi arrivano in una scatola carinissima, rosa, molto ben imballata, io le ho tolte, come vedete c'è tutto il pluribull, e dentro sono tutte, tutte, tutte confezionate in bustine di pluribull, quindi non avete nessun problema, non arriva fortunatamente nulla di rotto, rovinato, sono ben imballate e siete al sicuro. Ma che rossetti e che matite labbra ho comprato? Allora, la prima che è questa, Just a Tint, sapete che qui l'inglese non è di casa, sono tutti prodotti cruelty free, vegan, insomma, un'azienda di tutto rispetto, che ci fa star bene, facendo star bene anche il resto del mondo, della fauna e della flora. Allora, questo che è quello che indosso, ho questo, ho indossato adesso l'altro, non mi ricordo più, aspettate che vado a vedere. Comunque ne ho prese due tipologie di questi che sono per me, sì, esatto, che sono per me, appunto, quelli più portabili. Questo è quello che indosso ora, e questo è il colore status quo. Il colore è questo, è un matitone, che sono quelli che io preferisco, e vi faccio vedere il colore. Tra l'altro, profuma di frutta, che è una cosa meravigliosa. Allora, il colore, ve lo faccio vedere qua, è molto molto leggero, ed è quello che io ho sulle labbra oggi. Questo è il colore, morbidissimo, veramente sulle labbra è una coccola, profumatissimo, mi piace tantissimo. Diciamo, sono quei matitoni lip gloss che colorano, non in maniera tanto intensa, che vi lasciano le labbra morbide, che voi potete rimettere quante volte volete. Non ho i prezzi di questo, perché mi sono stampato l'ordine, ma sull'ordine non sono elencati i prezzi. E non vi voglio dire una bugia, ma vi faccio vedere. Come vedete, sull'ordine non ci sono elencati i prezzi. Poi vi lascerò comunque tutti i link, mi raccomando, controllate sempre l'info box, se volete avere delle notizie in più su quello che vi mostro, e lì avrete tutto. Comunque, questo ve lo faccio rivedere, ed è veramente, veramente molto, molto carino. E questo è il primo. Ma che profumo meraviglioso. Poi, sono anche stata brava, perché da quando mi sono arrivati all'inizio di gennaio, io non ho utilizzato nulla. Questo è un colore che sembra apparentemente più brillante, più allegro, però in estate questi colori io li metto davvero tanto, perché poi la mia carnagione prende quel colorito un po' cioccolatino, anche se non abbronzatissimo, perché il sole non lo prendo più, o comunque lo prendo poco, perché mi dà veramente fastidio. Adesso, invece, prima ero un amante del sole. E questo è il colore Pop and Look. Ed è questo bellissimo color fragola, color lampone quasi. E anche qui scrivono, mamma mia, ma che profumo meraviglioso. Guardate che bello. E questo è il secondo. Ok, attenzione a non far via la punta. Poi, sempre per rossetti o lip gloss come matitone, ho preso questo che è della serie Just a Tint. Color Pop, colore Gimme's More. Questo è un color nude. Che belli, poi questo è quello che mettete anche a occhi chiusi, al buio, che anche se sbavate non vi va da nessuna parte. E il terzo, questo qua, bellissimo. Mamma mia, e hanno di quei profumi fruttati che sono una meraviglia. E anche questo, spettacolare. Poi, ho preso dei rossettini in stick, quelli molto sottili, che sono comodissimi, da portare in borsetta. Questi, diciamo, sono veramente quelli che io prediligo e questi sono i colori che io utilizzo di più. E adesso ve li faccio vedere. Allora, questo è della linea Lipsticks Color Brink. Wow, ma sapete che io non li ho ancora provati? Che bello! E' questo. Questo è meno glossato del matitone. Anche qui, un profumo delizioso, non di frutta, ma quasi di biscotto. E' leggermente matt, ma è comunque morbidissimo. Poi, sempre della stessa linea, il color Slacker Cream. Sempre, in questi pack, davvero carini, molto giovanili, adatti a me. E questo è più sul rosato. Vedete? Sempre molto cremoso, ma ovviamente meno glossato e lucido dei primi tre matitoni. E di un'altra linea ho preso il Lippy Pencil. Colore Star Shop Ah, sì, Lippy Pencil, secondo voi, Lippy Pencil, cosa vuol dire? Matita per le labbra. E questa... Oh, che bel colore, morbida. Perché una matita per le labbra può sempre servire. Bellissimo colore. Ma lo sapete che qua non siete su un canale professionale. E quindi ho sbagliato. E vi chiedo scusa. Ultimi due rossetti sono questo Fresh Fish Glossy Lip Stain nel colore Ice Pop. Ragazzi, tra l'altro io faccio una fatica ad aprire tutti questi cosi. Allora. E... Oh mamma, che profumo. Così. Urca. Questo, ragazzi, spacca. Mamma mia. Che bello. Bellissimo. E che profumo. Ha un profumo di frutta. Anche questo come i tre matitoni. Bellissimo. E l'ultimo è il Lux. Lux Lipstick nel colore Steel Crazy. Questo è il pack. Qui ci sono delle micro stelline. Non so se voi lo vedete perché specchia. È un dorato rosato. Non è calamitato. Si chiude perfettamente, ma non è calamitato. Ed è questo... Marrone. Che bello. Bellissimo. E questi sono i rossetti. Adesso qua mi sono portata le salviettine. Se no sporco tutte le mie favolose palette. Ci tiriamo via tutto. E qua veramente mi sono data alla pazza gioia. Ma era il regalo di Natale della mia mamma. Allora. Diciamo che le palette che io ho acquistato e che sono a bass... Cioè nelle mie corde come colori comunque che mi piacciono. Che so che non farò fatica a sfumare. Perché comunque la qualità di queste palette è davvero spaziale. Ha ragione veramente Elisabetta perché è bellissima. Allora io ho comprato Sage The Day. Che è questo pack verdino. Queste palette non hanno lo specchio. E quindi ve le posso far vedere così. E queste sui toni del verde. Allora. Le polveri sono meravigliose perché l'avevo già provata con questa. Anzi vi dirò che il trucco che ho fatto nel mio scorso Get Ready With Me è durato fino a sera. Non ha rilasciato assolutamente polveri in giro sul viso. Nonostante io non avessi messo il primer sugli occhi. Sapete che i miei occhi sono veramente bastard house. Bellissimo. È durato. Ed è una palette che si usa tranquillamente. Io l'ho usata nel mese di febbraio anche dopo il mio anniversario. E normalmente insomma la mattina anche soltanto con due colori sono veramente veramente stupendi. Ma proviamo qualche colorino di questi. Adesso se io faccio così vediamo. Allora facciamo questo verde che ci piace assai. Ecco poi la mia pelle. Allora questi. Poi come dice la preparatissima Giusi. Che sapete io seguo con molto piacere. Un conto è vedere il swatch sulle mani. Un conto poi è effettivamente metterlo sulla palpebra. Questo è un verde molto pastelloso, talcato. Molto molto bello. Poi vediamo un altro matte. Che è questo marroncino. Color terra. Terra cotta. E ci vediamo anche due shimmer. Allora io vi ho fatto vedere questo che è Keep Calm. E infatti è davvero un colore molto molto tranquillo. E Intuition. Che è questo. Ora volevo provare questo shimmer. Nature. Nature Bow. E questo lo proviamo così. Vediamo sì. Questo è un duo chrome. Sto imparando anche queste cose ragazzi. Che ha delle sfumature. Vedete? Si vede. Marroncine ma poi va a dei bluet all'interno. Scusate c'è la ring light all'in alto. E poi volevo provare Free of Life. Urca. Che bello. Questo invece è uno shimmer. Normalissimo sui toni. Un verdone scuro con dentro. Non riesco sì. Con dentro dei mini sparkle dorati. Ma proprio mini mini mini. E poi vediamo questo. Lit Vibes. Lo proviamo qua. Anche questo è un duo chrome. Che ha una base. Chiara. E poi vira. Sul verde. Non so se voi riuscite a percepirlo. Questo comunque è appunto una palette. Abbastanza tranquilla direi. Per me è. Anche soltanto fare un tutta palpebra. Un verde o. O quel color terracotta. Che vi ho fatto vedere. Uno shimmer sopra. E siamo a posto. E questa è la prima. Ho anche sporcato. Adesso la puliamo. Arrivano in queste confezioni. Molto molto carine. Bello anche il pack cartonato e calamitato. Dietro avete. Il nome dei vostri. Dei colori delle. Delle cialdine. E a posto. L'altra che vi avevo fatto vedere. Sempre della stessa serie. Era appunto la Star Wars. Se qualcuno se l'era perso. Eccola qua. Qui abbiamo. Lo specchietto che noi prontamente nascondiamo. E questa l'avete vista in azione. Nel mio Get Ready With Me. Molto molto bella. Una palette che anche se apparentemente. Non era nelle mie corde. Questi colori mi hanno colpito. E devo dire che ho fatto molto molto bene. A prenderla. L'altra palette abbastanza nelle mie corde. Perché ha dei colori molto neutri. Molto molto tranquilli. Molto delicati. E Petal Endpoint. Questa è veramente molto carina. Anche questa è una palette senza specchio. Guardate che bella. E anche qua vediamo due colorini. E' davvero molto molto tinue. Questo rosa cipria. Belletto della nonna. E' bellissimo. Si vede? Così forse. Poi proviamo. Un altro matte. Che è questo scuro. Quell'altro era Grand Final. Take e... Non vedo neanche cosa c'è scritto allora. Take e Bor. Che è questo. Che è questo marrone tendente al grigio, al nero. Molto molto bello. Vi ho fatto vedere questo e questo rosa. E adesso proviamo anche qui due scimmerini. Per vedere come sono. questo è il nastro. Pink... Ribbon. Ribbon è il nastro. Vediamo. Facciamo così. Vediamo se ci sta. Oh! Questo è mio! Mamma mia! Che bello! Pink Ribbon. Spero lo vediate. Perché quando vedo in telecamera vedo una cosa, poi quando vedo il video registrato vedo un'altra cosa. Va bene, va bene. E poi proviamo questo. Happ to Bor. Tubar. Tubor. Oh! Oh! Questi due insieme. Mamma mia! Che belli, ragazzi! Questi li provo subito. Domani mattina andare al lavoro. Che spettacolaus! Bellissimi! E vi ho fatto questi due. In mezzo. Questo e questo. E li faccio vedere ancora. Belli, belli, belli. E questa sono sicura che sarà una delle mie palette preferite. Ma ora veniamo a noi. Veniamo a noi. Vi ho comprato delle cose pazzesche. Che manco a 15 anni avrei comprato. Ma vi faccio anche vedere perché. Vi faccio anche vedere perché. Perché. Vabbè, questa è una mini palette New Millennium. È proprio piccolina piccolina. Ma i colori che ho scelto sono un po' così. Abbastanza. Fucsia. Ecco, in camera sono molto molto meno sparati. Dal vero. Sono molto 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 più forti. Allora, vediamo. Facciamo questo viola. Ragazzi. Poi. Eh? Ebbè. Perché io vedo lì un'altra cosa? Boh. Poi vedo quando vedo il video. Perché non riesco a capire come mai si vedano così. Spero si vedano bene. E poi proviamo. Questo scimmerone. E quest'altro. Sono abbastanza simile. Ma allora a questo punto, visto che sono poche, ve la faccio tutta. Eccola qua. Boh. Io spero che si possa vedere bene. Sono molto molto belli. Mi piacciono un sacco. Questa è la palette che mi sembra meno carica, ma boh, poi vedrò quando editerò il video. E questa è diciamo sì, un po' fuori dalla mia comfort zone, ma neanche più di tanto. Quelle che invece io non avrei mai pensato di comprare, ma che mi hanno conquistato per questi colori, sono La Malibu Barbie. Ma vi pare che una degli anni 70 non possa amare la Malibu Barbie. La Malibu Barbie è stata una delle Barbie che i miei genitori non mi hanno mai comprato. Perché costava un patrimonio. E quindi quando ho visto questa palettina, io ho detto, deve essere mia. Non ho avuto la Barbie, almeno la palette. Malibu Barbie. E già, i colori mi dicono qualcosina. Ma ditemi voi. Se io non posso... Cioè, guardate che colori. No, ma guardate che meraviglia. Ma voi vi rendete conto? Cioè, io sono felice come una bambina di 10 anni. Allora, ci sono questi due che mi piacciono da impazzire. Questo e questo. Ma anche questo arancione e questo giallo. Ma veramente. È spettacolare. Adesso vi swatcho proprio quei due colori lì che mi piacciono da morire. Vediamo se faccio così lì. Forse sì, vedo non di più. Vabbè, vediamo un po'. Oh mamma. Questa è solo come una passata, ragazzi. Oh mamma. Oh my good. Oh my good. Bellissime. Sembra una deficiente, lo so, ne? Poi io ci metterei vicino questo color senabe. Che è spettacolare. Ma anche quell'arancione. Aspetta che mi pulisco le dita perché ce li ho tutte sporche. Non voglio in nessun modo rovinare la paletta. Mamma mia che belle. Allora. Adesso prendiamo l'arancione. Mamma mia. Ma vi pare che io riuscirò a fare una cosa del genere? Ma sono troppo belli. Che colori. Che colori, ragazzi. I colori della mia estate. Rossetti rossi. Le novità di quest'anno. Poi facciamo anche qualche shimmer. Questo bel fucsia. E lo mettiamo. Allora. Queste ve li faccio rivedere. Sono spettacolari. Adesso cancelliamo. Com'era la lavagna. Perché vedo che vengono miglio. Si vedono miglio. Qua. Asciugiamo un attimo. Allora. Ma no. Ma no. Ma davvero. No. E no. Già questi due. Cioè. Mi hanno conquistato. Guardate che. Che. Che spettacolo. Poi c'è rimasto sotto anche un po' di azzurro. Ma fa ne gotte. Bagai. Fa ne gotte. Vabbè. Che dirvi. Palette. Promossissima. Guardate quel dorato là. Mamma. Ciao. Ciao. Ora che ho scoperto color pop. E poi chissà quante altre brand ci saranno in giro. Che sono meravigliosi. Va bene. Va bene Elena. Sei tornata bambina. E siamo tutti molto molto contenti. Comunque. Palette. Spolvera un attimino. Ma anche perché forse io ci ho dato dentro. Quindi. Se vi piace. La Barbie Malibu. Questi sono i colori per voi. Di questa estate. E se come me. Non avete mai comprato la Barbie Malibu. Compratevi almeno la palette. E questa. Diciamo che era quella con i colori un po' più diversi. Un po' fuori dalla mia comfort zone. E poi la mettiamo a posto dopo. Ma c'è anche questa. L'Itzy McGuire. Ma c'è anche questa. Non so chi sia questa persona. Sarà un. Una bambina. Una ragazzina amata dalle ragazzine. Come me. Ma i colori. Dai. Ditemi che sono fuori di testa. Ditemelo che sono fuori di testa. Io l'ho presa per questi verdi. E per questi viola. Ma ditemi voi. Che meraviglia. Ma quanto sono belle. Ma quanto sono belle. Allora. Facciamo così. Verde. Questo verde acido. Color lime. Mamma mia. Mamma mia. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Ma quanto sono contenta. E non li ho ancora usate. Va bene. A parte che appunto non avrei potuto usarli in questi. In questo periodo. Perché quei colori qui. Però. Cioè. No. Svingo. Svingo. Già solo. Ma va bene. Ma va bene. Sì. Ciao. Ma voi vi rendete conto. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Questi sono. Shimmer puri. Quindi qui sotto. Ci va assolutamente una base. Un po' più. Novi. Ragazzi. E già solo con questi. Questo è un duochrome. Va bene. Va bene. Abbiamo vinto. Sono uno spettacolo. Voi non potete capire. Sicuramente capirete. Comunque. Faremo sicuramente. Anche. Dei. Get ready. With me. Tornando indietro nel tempo. Con la. La Barbie. Malibu. E con questa. Lizzie McGuire. Guy McGuire. Che io non so. Chi sia. Mia figlia. Non sa chi sia. Probabilmente per le ragazzine. Che. Si truccano. Qualche. Forse lei è anche un po' troppo grande. E niente. E queste sono state. Le mie. Pazzie. Però legate. Al regalo di Natale. Della mia mamma. Io. Vi ho fatto vedere tutto. Spero di avervi. Ingolosito. Un pochino. Tenete d'occhio. Ah ecco. Poi. Quando ho comprato io. Appunto. C'erano gli sconti del 70%. E le spese. Internazionali. Verso l'Europa. Erano gratuite. Quindi. Davvero. Penso. Di aver fatto. Un ottimo. Ottimo. Affare. E io sono contentissima. E adesso comincerò a usarli. Perché sono stata veramente molto molto brava. Che non ho utilizzato nulla. Io vi ringrazio. Mi è anche passata un po' la nausea. Dopo aver visto tutte queste meraviglie. Vi aspetto in un prossimo video. Vi auguro una buona settimana. E speriamo di rivederci presto. E di non essere inguagliata. In qualche maniera. Ciao. Buon pomeriggio. E a presto. Grazie di essere arrivati fino a qui. Un bacione. Ciao ciao. Ciao.